Per me fare l'insegnante deve essere un sogno. Io voglio sognare di fare l'insegnante. E talvolta anche la stanchezza e la frustrazione degli insegnanti fa venire meno questo sogno. Io lo vedo in tante donne e uomini che sono persone vicine. Quando tu ogni anno devi cambiare perché hai una supplenza da un'altra parte, non sai come funziona, sei appeso ai telegrammi. Quando hai le convocazioni che arrivano il giorno dopo l'inizio della scuola e non il giorno prima. E le convocazioni sembrano un incrocio tra il mercante in fiera e un terno all'otto. Perché sono esperienze concrete. Io le ho vissute non solo per ragioni familiari ma per ragioni di amministratore locale, di presidente della provincia, di sindaco. Non credo di aver avuto nella mia esperienza di amministratore locale un'esperienza più bella di quella di entrare nelle scuole.